Dove sei? Sei ovunque! Ciao, sono ovunque! Ciao ragazzi! Salutiamo te e tutti quelli che sono in studio Grazie! E ovviamente i tuoi ragazzi! I miei ragazzi! Complimenti! Maura, Chiara, che effetto fa stare nella studio? Voi vedete il grande fratello da casa? Noi abbiamo guardato dalla prima puntata fino a quella scorsa Questa ce la siamo ovviamente persa perché eravamo in camerino Vi ha seguito tutto! E siamo molto, molto emozionate Perché dopo che segui una trasmissione per così tanto tempo Ti appassiona la storia di tutti T'affezioni! È un po' un effetto entrare qua dentro Eh, direi di sì! È bella, visto che è bella la suite? Molto! Allora, i ragazzi naturalmente non sospettano che ci siete voi lì a cantare per loro Io fra pochissimo li faccio entrare Ragazze, fate come se fosse a casa vostra Il frigo è pieno Servitevi da bere E preparatevi per la sorpresa ai miei ragazzi Ciao Paola, ciao Chiara! Ciao! Ciao a dopo! Ciao, ciao! E allora entro nella casa perché ho qui la busta rossa Mi fate entrare? Ragazzi! Barbara! Allora, è puntata lunga questa sera ma secondo voi non manca una busta? Quella del migliore, Barbara? Quella del migliore? Quella del migliore? Quella rossa? Quella bella bella bella? Quella bella bella bella? Quella bella 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 Vado? Sì vai! C'è un migliore anche stasera ragazzi Chi è? Siete pronti? State vicini Sì! Aspettaci! Vai! Aspettami! Aspettami! Chi è che vorrebbe vincere il premio del migliore? Naturalmente non c'è immunità dalla nomination Potrebbe esserci una sorpresa ma potrebbe esserci anche la suite Chi è che vorrebbe vincerlo a tutti i costi? Noi! Eh vabbè sì vi piacerebbe Vado apro la busta? Apro Il grande fratello ha deciso che il migliore della settimana è Il trio dei finalisti! Tutti e tre nella suite! Ragazzi preparatevi! Preparatevi perché fra tre minuti esatti vi faccio entrare nella suite! Pronti? Ciao ragazzi a dopo! Ciao! Ciao! Che bello! Che bello! Sì! Scusa! Che ho detto! Sì! Sì! Volevo dire! Grande fratello ho perso il magnete Porto e coccolate tutta la notte, pulcini, grazie Che bello! Ho perso il magnete Siamo a livelli di sultanesimo mai visto Ho perso il magnete Fantastico!